musica ci abbiamo fatto, siamo arrivati in una magnifica stanza proprio magnifica quella del bagno che adesso è occupato stanza veramente microscopica però vabbè c'è tutto insomma, non è male vista non lo so che vabbè vista malazzi, è una scala quella vabbè, tutto ottimo, piove a bestia pioverà per tutta la settimana vabbè, ci diamo in giro ciao 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 qua siamo a Londra, non piove per niente adesso però sì temperatura gradevole, tipica piove tipica temperatura del 9 agosto abbiamo risparmiato la parte del museo di storia naturale c'erano i dinosauri e i sassi ma certi sassi erano fighi c'erano i sassoloni ma andiamo così a fare le cose dei turisti e ora si va da Harwich eccoli qua i magici magazzini che tutti amano aspetto grandi cose e i 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 Siamo stati a Tarz, abbiamo visto anche il robot che faceva bailando La soddisfazione è la salita di tantissimo e adesso andiamo un po' al centro, vediamo che si dice Stiamo tagliando per Hyde Park, mi sa che andiamo da Primark perché fa un pochino frescolino, fanno tipo 12 gradi E' in fianco il caldo di Roma, lo scrivo e lo sottoscrivo, va freddo freddo Però è carino il posto, devo dire, amabile Sì, tutti tranne i bambini I bambini strusciano i piedi, so, e tutto Che piangono, urlano, spudano Prima però lo devo ancora tagliare E' un posto tipico londinese, che è il ristorante libanese Sì, è vero Andiamo Voto Mi piace Bene Ma è bravissimo Poi ieri c'è qualcuno che ha fatto delle danze, io l'ho visto, l'ho visto con i miei occhi Questa è la colazione dei campioni Oddio ho paura Qui c'è il London Eye Eh sì, purtroppo qui è disturbata la linea Devo dire che mischiare salmone, uova, fanno e nutella Fanno e nutella con il pancake, è stato molto buono E niente, mo ci andiamo al London Eye che piove e al Big Ben in ricostruzione E quindi, vabbè, fighissimo Siamo alla cortissima fila per il London Eye, questa è la faccia Non c'è nessuno davanti Voglio andare a casa Che bello il London Eye Andateci tutti Siamo in cabina Delle persone hanno saltato rigorosamente la fila Nessuno ci voleva salire Ci siamo saliti solo noi due Tutte bravi persone A parte uno E' una bellissima giornata Siamo indignati Amare l'educazione Regna sovrana Poi tutti bei ragazzi Tanto noi arriviamo su e smettere di fiorire Io lo so Io sono mica Sì sì Quando piove che c'è tutta la neve C'è tutto oscurato, non si vede niente Già non si vede detto cazzo Niente Comunità, il pantheon E' il pantheon No Gli ho detto, arriviamo su E piove Il viandante sul mare di nebbia si chiama quel dipinto Quale? Quello del Quello del signore che sta su Di Friatik Non lo sa E che ci fanno? Ci fanno il rodeo Sei storico? No Non mi dico sì Ci vorremmo scavare Ma che ne so che ci fanno? La piazza La piazza non c'è La piazza rossa No Guarda che bella Milano Sto londonè è una merda No Sti 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 Sì Sti Commenti a caldo sul londonai? Ehm Bello Ok Piacevole Voi direi andateci col sole Se non vi piace fare le file Non ci andate Voi direi andateci colare Voi direi andateci colare Guarda I